Sono Antonio Iori, titolare dell'azienda Iori e imprenditore agricolo a titolo principale. La nostra azienda nasce a gioia di marsi nel 1957 ad opera di mio padre Iori Vincenzo, alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo. A 26 anni ho preso in mano l'azienda e ho portato avanti questo lavoro specializzandomi sulle carote. La carota del Fucino EGP si distingue per la forma cilindrica e punta arrotondata, sapore dolce e corposo, tenera e croccante. La qualifica EGP è riservata alle carote prodotte in una zona specifica, l'altopiano del Fucino. È un prodotto di nicchia che rappresenta circa il 2% del totale delle carote prodotte nel Fucino. Il ciclo della produzione delle carote EGP del Fucino inizia con la semina a marzo fino a maggio e la raccolta fine giugno, metà gennaio. Seguendo l'esempio di Lidl abbiamo migliorato la struttura aziendale, i processi e i metodi di lavorazione, assunto nuove risorse e abbracciato la sfida della sostenibilità. Nel 2017 con l'ingresso della terza generazione in azienda abbiamo implementato alcune importanti iniziative, tanto da ricevere dei premi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. La collaborazione con Lidl in tre parole è dinamica corretta e stimolante.